Ciao a tutti, siamo come sempre in compagno di Saverio Ciao Ecco Saverio, allora nell'ultima puntata mi hai spiegato un attimo il funzionamento dei widget più semplici di GenroPy Ora, nella realtà però, normalmente a me potrebbe interessare collegarmi a dei database o meglio reperire dei valori di record quindi collegare record di un database come posso fare questa cosa? Allora, diciamo che effettivamente come tu dici la necessità di inserire delle foreign key tecnicamente detto, quindi dei record in relazione è molto comune nelle database application per fare questo il widget deputato da GenroPy si chiama DBSelect quindi se andiamo a vedere i primi esempi eccolo, prendiamo l'esempio un attimo avanzato ok il paragrafo infatti si chiama widget imputazione avanzati widget che interagiscono con un database perfetto abbiamo come primo esempio di DBSelect un campo che va sulla tabella delle regioni qui abbiamo nell'applicazione demo che starete usando un package che si chiama glbl che contiene dei dati geografici italiani quindi vedete che abbiamo specificato come parametri della DBSelect come primo parametro importantissimo il parametro table che indica a quale tabella mi sto andando a collegare il parametro principale, l'unico veramente fondamentale effettivamente è table a questo punto cosa fa la DBSelect? ecco, vedo che si configura sia nella forma che nella sostanza diciamo un po' come la filtering select che mi hai mostrato ieri con la differenza che però qua ci stiamo collegando a una tabella esistente esattamente c'è però molto di più diciamo come differenza perché innanzitutto il funzionamento principale previsto dalla DBSelect è quello di fare una ricerca in tempo reale, full text tra quello che io vado a digitare e quello che lui va a trovare nella tabella indicata nel parametro table quindi se io metto L per esempio oltre alla tendina io posso comunque digitare lui ogni volta in realtà è la modalità d'uso principale la digitazione la tendina è un'eccezione infatti vedete che c'è un parametro hasDownArrowTrue sempre alla linea 13 ecco, questo fa sì che compaia quella freccina della tendina però bisogna stare molto attenti come dicevo è una modalità di utilizzo secondaria infatti andandoci a collegare con delle tabelle di database che possono avere anche centinaia e migliaia di record non è pensabile che lo strumento di interazione sia un elenco enorme a video che uno deve star lì e leggersi 100 o 1000 voci immagino che sei di posto scomodo esatto, quindi cosa succede? quindi di default se noi facciamo una db select quella tendina, quel triangolino noi non l'abbiamo può valer la pena di metterlo se il dataset è piuttosto limitato quindi non so sto parlando di tipi prodotto e sono una ventina ok, lo metto le regioni d'Italia comunque anche quelle sono un numero limitato chiaramente le province no ecco o meglio sono limitate anche le province però chiaramente ma sono tante cominciano ad essere pambini ecco un'altra cosa da dire è che proprio perché comunque non è pensabile il fatto che se io anche metto S da narrow true e mi sto collegando a una tabella di migliaia di record mi faccio un accesso database prendendo una fetch di tutti i record del database e provi a mettermi dentro una tendina c'è un limite messo di default a 20 risultati se tu apri la tendina vedrai che ce ne sono 20 non solo perché le regioni d'Italia sono effettivamente 20 se vivessimo in uno stato con più regioni magari si inventano di farne qualcuna in più ne vedresti sempre comunque 20 le prime 20 in ordine alfabetico quindi nel caso delle regioni d'Italia ma non c'è l'inganno esatto nel caso delle regioni d'Italia il default di GenroPy a 20 va già benissimo nel caso uno comunque volesse modificarlo può mettere il parametro limit quindi ad esempio se noi facciamo limit 5 quindi io posso già metterlo così limit 5 salva e apriamo la tendina vedremo invece solo le prime 5 ok passiamo ad esempio allora quella della provincia che non ha il non ha questa cosa non ha la tendina lo proviamo a digitare tipo hub chiaramente le lettere mi propone quelli con quella lettera se non digito niente però me le propone se non digiti niente ecco una cosa interessante che vorrei dire che la ricerca che viene fatta istantaneamente cioè quando io inizio a digitare facciamo finta scrivo ant lui mi cerca Antonio magari se sono anagrafica se io faccio a ant spazio ro lui mi cercherà Antonio Rossi o Antonio Rossini Antonio Rosselli eccetera quindi non è solo uno monza brianza se io cerco m spazio b effettivamente esatto monza brianza e tra l'altro è possibile specificare su quali colonne deve fare questa search quindi di default sostanzialmente lui va a fare la search su il campo descrizione della tabella quindi può essere il campo titolo descrizione nome della provincia a seconda della tabella esiste quello che è il campo nome esteso lui di default va a farlo su quello però è possibile invece col parametro columns essere più specifici e dire su quale colonne noi vogliamo andare a fare la query vediamo che ad esempio in quello delle province ne abbiamo specificato che la ricerca lo deve fare sulla sigla sul nome sulla regione e sul codice istat quindi se io metto un codice istat tipo per esempio qua ho trovato che è 15 quello di Milano se io cerco 15 effettivamente perfetto prova tipo metti 2 vediamo se ce n'è qualcuno 20 ah sì 020 012 ora però magari i nostri spettatori adesso diranno ma come mai ci sono solo le province della Lombardia tutte queste prove che abbiamo fatto è perché abbiamo vedete al parametro 18 alla riga 18 e 19 abbiamo aggiunto un parametro che si chiama condition questo parametro condition mi permette di far sì che le due db select della regione della provincia siano tra loro collegate e conseguenziali ovvero la regione selezionata la db select della regione mi va a limitare la scelta sulla db select delle province quindi cerchiamo di analizzare un attimino come funziona questo meccanismo perché è veramente molto utile e molto comodo sostanzialmente noi diciamo al parametro condition che la regione allora semplifichiamo un attimino che poi andiamo a complicare dopo scrivi semplicemente regione dollaro regione uguale due punti reg questo ultimo pezzetto qua solo quell'ultimo pezzetto lì poi abbiamo aggiunto una finezza allora sostanzialmente cosa cosa fa questa cosa noi sappiamo che al pat allo store al pat dello store pat punto regione andiamo a mettere la regione selezionata dalla db select alla riga 12 a questo punto noi diciamo che la nostra condition dice la provincia che stiamo andando a scegliere deve avere alla colonna regione quindi con dollaro noi indichiamo la colonna del del database della table di database alla colonna regione deve avere il valore pari alla variabile reg potevo chiamarla r reg ronaldo non mi importa adesso abbiamo chiamata reg per abbreviazione a questo punto lui però ha bisogno di avere nello spazio delle variabili il suo reg quindi cosa fa genropay ti permette di definire con il prefisso condition underscore tutte le variabili che vuoi buttare dentro nella condition e usarle e quindi noi facciamo condition reg ed ecco che definiamo la variabile è il valore che tu leggi al path punto regione quindi questo il trucchetto ora svuota un attimo la provincia e cambiamo regione vedete a questo punto è cambiata la regione quando provo a fare le province ora cosa succede proviamo a scegliere campo basso ora proviamo a cambiare la regione perché uno giustamente dice sì però io voglio fregare la logica della form di bombardia ecco qua a un certo punto vedete che la form si accorge automaticamente che si è creata un'inconsistenza tra i dati perché questa condition non è solo prescrittiva cioè io a priori sono limitato nella scelta ma è anche di validazione e questa cosa è data dal fatto che abbiamo usato il puntatore punto cioè apice punto regione questo fa sì che quando viene cambiata la regione lui comunque riverifica di nuovo che la condition sia soddisfatta e se non è soddisfatta mi dà errore ora facciamo una piccola anticipazione vedete che c'è rimane questo angolino rosso in alto a sinistra l'angolino rosso in alto a sinistra è quello che connota tutti i campi non validi secondo il sistema delle validazioni di GenroPy che poi meriteranno una chiacchierata d'approfondimento solo su quello però già il fatto che ci viene indicato con l'angolino e ci viene mandato a video il messaggio ci fa una piccola anticipazione dell'argomento validazioni ecco scusami una domanda queste colonne come mai le visualizzo così con tutti questi dati col codice istat la regione anche ah ok giusto non ho parlato in effetti del parametro aux columns che vedete alla riga 17 quindi mentre le columns alla riga 16 sono le colonne su cui io sto andando a fare la query le aux columns sono come dice il prefisso aux ausiliari cioè vengono prelevate vengono lette per essere visualizzate mostrate a video sotto forma di questa piccola griglia dentro al menu a tendina perciò io posso modificare ad esempio in aux columns tolgo la regione un attimo che tanto la regione essendo condizionata a poco valore aggiunto diciamo facciamo che rimettiamo la Lombardia e a questo punto non ho più la corona della regione ecco questo è molto comodo perché ci permette di già mostrare un ausilio in più all'utente e poi ho notato che quando seleziono Milano o comunque in qualunque provincia lui mi mi cattura il codice istat qui sotto in questo div esatto allora questo è invece la magia del selected underscore così come il condition introduce una sorta di namespace col prefisso condition underscore così anche il selected introduce un suo namespace in un certo senso e quindi io posso specificare selected underscore è il nome di una colonna della tabella quindi codice istat per dirgli che voglio quando lui sta andando a prendere il record della provincia di tenersi da par di copiarsi il codice istat e di andarlo a mettere dentro nel mio datastore ad un preciso indirizzo il preciso indirizzo è quello specificato come valore esatto questo è la colonna di provenienza della tabella e questo invece è il path dove voglio andarmi a salvare il valore giusto possono essere diversi in teoria credo esatto esatto quindi sostanzialmente io dico copiati il codice istat quando tu stai andando a leggere il record della provincia e mettilo lì perché ricordiamo dentro nel value delle db select noi in realtà stiamo sempre andando a prendere la primary key quindi proviamo ad aprire l'inspector in questo momento perché può aiutare ok dentro a regione io non ho esatto non ho quello che vedo dentro nel campo perché nel campo sto vedendo l'OM lombardia vedete sposto un attimino questo ecco vedo l'OM trattino lombardia ma questo è quello che vedo quello che sto mettendo invece veramente nei dati della mia forma è semplicemente l'OM che è la primary key della table idem vale per la provincia io non ho salvato Milano aperta parentesi mi salvo solo mi quindi è molto importante capire che la db select serve a selezionare un record e scrivere dentro nel value la sua primary key tutto il resto del record sarebbe a perdere salvo il fatto che se utilizzo il selected underscore posso dire senti ma già che hai letto il record per darmi la primary key salvati anche il valore di questa di questa colonna che mi serve e te lo vai a mettere per copia quindi vediamo che per copia noi siamo andati a leggere il codice infatti se lo mette qua in punto codice per favore non c'è limiti ai selected che posso mettere posso fare selected underscore anche altre cose ecco quindi comunque diciamo che qua io mi sto collegando a questa a questa relazione ipotizziamo invece che io però voglia vedere i valori della tabella ma non mi voglia collegare al record posso farlo in qualche modo certo cioè sostanzialmente tu stai dicendo ad esempio guarda proprio qua abbiamo fatto le località io per avere una sorta di compilazione più veloce do dei valori suggeriti di quelle che sono le località che ho in questo momento salvato nel database però vedo un elenco ma non mi voglio collegare a quel più che vedere l'elenco avrò l'auto quello che si chiama l'auto completamento quindi inizio a digitare are prometti are che trovo arese perfetto così l'utente fa prima e dice soltanto are tab è a posto finito il lavoro però nella mia applicazione qui io non ho un collegamento alla località id perché non mi interessava diciamo non mi interessa collegarmi all'id della località mi interessa semplicemente sapere come si chiama la località perché lì glielo devo spedire appunto devo poi fare un'etichetta che appiccico sul pacco e sono posto così allora in questo caso quindi quando non devo fare una foreign key ma voglio un valore suggerito letto da database anziché la db select uso db combo box e allora vediamo che i parametri sono quasi uguali perché devo sempre specificare la table sulla quale vado a fare la query devo sempre specificare posso specificare le colonne le aux columns tutto uguale però c'è una differenza molto importante che adesso andiamo a vedere aprendo l'inspector e cioè che lui infatti non mi ha salvato la primary key della località mi ha proprio salvato arese la stringa arese tra parentesi mi quindi quindi mentre qua in provincia stiamo salvando mi ma stiamo di fatto leggendo milano aperta parentesi mi qui invece stiamo proprio salvando sì esatto nella db select ci salvavamo semplicemente la primary key ora proviamo a trasformare questa db combo box in una db select così vediamo subito cosa cambia intanto mi diventa gialla mentre prima era bianca quindi vabbè un minimo di differenza anche grafica diciamo che ce l'abbiamo esatto e poi se apriamo l'inspector adesso vediamo che la località è l'id questo qui è l'id del record quindi questo è molto importante capirlo ora tu mi dirai però io dentro campo leggo sempre arese tra parentesi mi come mai allora chiudiamo l'inspector e andiamo a vedere che c'è un altro parametro di cui non abbiamo parlato che ad esempio ecco è lì alla riga 13 row caption nel nostro caso abbiamo ridefinito specificamente alla linea 13 il row caption della db select come sigla e nome ma nulla ci vieta di modificarlo proprio ora in sigla virgola zona virgola virgola nome cioè vogliamo ok in questo caso ha messo solo la zona quindi vedete lui in realtà salva l'om e basta però a video mi mostra questa cosa qui e qua laddove stiamo mettendo una virgola in realtà ce lo separa con un trattino spazio ma comunque diciamo che utilizza le colonne che gli stiamo indicando noi e la stessa cosa la posso fare anche sulla db select delle province delle località ad esempio a me non piaceva torniamo a rimettere quella delle località come db combo box salviamo non era molto bello quando abbiamo visto su un inspector che lui salvava albiate aperta parentesi mi cioè è un po' brutto è un dato sporco allora se io voglio che lui mi metta solo albiate allora dico raw caption uguale nome dollaro ricordatevi quando ci si riferisce a una colonna del database ok quindi adesso noi proviamo a riselezionare un'altra un'altra località scusami un'ultima domanda ma se io invece volessi selezionare più regioni contemporaneamente io qua ne sto selezionando esclusivamente una cosa faccio in quel caso? allora bella domanda esiste ti ricordi che avevamo parlato la volta scorsa del checkbox text che permetteva una selezione multipla tra dei valori ora se questi valori sono letti da una tabella di database posso semplicemente specificare il parametro table al checkbox text e vediamo che i valori vengono automaticamente letti da quella tabella quindi facciamolo perché quindi per esempio questa db select la posso trasformare subito in una checkbox text giusto? sì però ecco fammi il favore anziché regione chiamalo regioni value regioni sì perfetto eccolo lì magari la prossima mettiamo un as down arrow no scusa un pop up no sai cosa mettigli pop up true ok quindi adesso abbiamo il nostro selettore delle regioni qui come abbiamo detto l'altra volta il checkbox text è un testo che mi prende quindi le chiavi separate da virgole ora in questo caso controlliamo adesso nell'inspector quello che sto dicendo le chiavi sono le sigle quindi avrò l'om virgola ven virgola ecco pie ecco così quindi in realtà non sto facendo ovviamente una foreign key perché la foreign key funziona la relazione funziona su un valore solamente però mi sto concatenando le primary key questo vuol dire che se lo facessi ipoteticamente su dei record che hanno un id avrei ad esempio un id numerico vedrei 207 virgola 806 12 virgola 12 va bene allora ti ringrazio per la spiegazione chiarissima e ci vediamo alla prossima puntata alla prossima ciao ciao ciao